Come inizia non c'è male ragazzi, primo strike della giornata Una bella signorina, pesce molto furioso, ecco qua, sta continuando con le sue fughe, non mi c'è la possibilità E' una bella ragazza! Non è una riccioletta piccolina ragazzi eh! Sto cercando di conquistare terreno, il pesce ha fatto una fuga da circa un centinaio di vetri! Aspettiti qua! Ecco qua, si è piantata di nuovo! Questa ve le farà vedere delle belle ragazze! Il pesce è ripartito! Questa è il primo mattino ragazzi eh ragazzi! Oh ragazzi! Che goduria! Capace non lavorare eh! Non si vuole arrendere! Meglio così! Ecco, questo è il bello di pescare, non il tira! Il pesce sta gestendo lui il combattimento! 20 metri io, 30 metri lunghi! bursoio! Il pesce sta gestendo gli acquisti e sono i wartimi! Se må guardarlo questo si ripartagliate ha resurse! ecco si è ribloccato ecco con le 12 libre ragazzi ci vuole un po di pazienza la canna che sto utilizzando naturalmente è la nuova pro light pro light il modello è nel 12 libre 6 piedi a 6 canna veramente fantastica lo vedete in combattimento come come si sta comportando ecco qua il pesce si è ripuntato ferma avanti ancora ancora aspetta aspetta a vedere per il periodo faccio da 50 kg questo va bene tocca i muscoli tocca aspetta 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 Fiamo la bella foto in Corvacento, guarda. Ehi ragazzi, il combattimento si è fatto molto duro e ho dovuto togliermi il giubbotto, stavo già morendo da caldo, anche se siamo in pieno inverno, dai vieni a correggermi la barca, subito addosso. Invece dovrebbe essere a circa una ventina di metri. Cosa ne dici Antonio di questo combattimento? Eh, il pesce è cattivo, o è allamato male ragazzi o altrimenti bocca. Abbiamo a che fare non con una signorina ma con una bella principessa ragazzi oggi. a destra? A destra. Non si vuole arrendere. Ragazzi devo dire la verità, non ho mai combattuto, a parte un tonno, un pesce così tanto. Questa è il mio primo combattimento con un pesce che supera i 10 minuti di combattimento. continui a destra. Quindici. Basta. 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 Qua è il pesce padone. Ragazzi è disumano. No! Sì! Francesco! Pronto a saccare il guardiano eh! Sì! Guarda lo vedo! Continua a destra. Siamo in nylon eh! Assessi pesce! Prendi il rabio buono grande. Tu mi devo spostare? No! Mi prendi il pesci? Si! Ci prendi il pesce padone. aspetta fermo sotto il motore non andate i sogni besti bella eh ecco la qua ragazzi una super lola una bella preda la bella la bella la bella la bella Grazie a tutti.